Un campionato completamente gratuito e quindi accessibile a tutti di calcio. Ovviamente si scontrano due visioni completamente diverse di fare sport. Il calcio è uno strumento che aiuta le persone a stare insieme. Sì, ho gioco da tanti anni, però ho dovuto fare le mie lotte, perché ovviamente la classica famiglia in cui dice la bambina non deve giocare a calcio. Ci dà l'idea che una realtà che nasce dal basso debba porsi l'obiettivo di crescere. Veramente un'esperienza unica, credo, a livello nazionale. Il nostro quartiere. E' un campionato fuori dai circuiti ufficiali. Sono qua, sto parlando in italiano e mi dicono che non sei integrato. Sono qua, sto facendo i volontariati con il servizio civile e mi dicono che non sei integrato. Ma com'è facile di integrarmi? Sono milanese, infatti. Iscriviti al nostro canale!